la posizione di partenza è supina a terra con le braccia aperte ai lati del corpo a questa posizione solleva il bacino tenendo le gambe completamente distese e portandole quindi lentamente prima da un lato e poi dall'altro del corpo sfruttando la forza del core cerca sempre di formare un angolo di 90 gradi fra l'anca e il bacino per rendere l'esercizio più difficile puoi provare a non toccare con le gambe a terra ai lati del corpo ma fermarti appena prima per mantenere tensione sugli addominali grazie